Don Lorenzo Pernice, la sua comunità si prepara a celebrare la festa di Sant'Anna. Come ogni anno la nostra comunità parrocchiale, non solo la nostra comunità parrocchiale, perché la nostra festa coinvolge diverse realtà parrocchiali, una zona ampia, quella di Santa Maria la Bruna, la Litorania, fino a tutto il paese, possiamo dire, che viene qua per onorare l'immagine di Sant'Anna e della Vergine Maria. È un programma di celebrazioni che culminerà con una processione? Sì, è un programma di celebrazione con il triduo di preparazione alla festa di Sant'Anna che è il 26 luglio, i tre giorni di preparazione sono predicati da un frate francescano e poi ecco il 26 tutta la giornata la chiesa è aperta con diverse celebrazioni e poi a sera la celebrazione con tutta la comunità. E culminerà poi tutta la settimana diciamo di festa il 27, 28, 29 con gli spettacoli canori il 30, domenica 30 luglio, ci sarà la processione con il carro trionfale che porterà per la zona, ecco, per le strade della nostra parrocchia l'immagine di Sant'Anna e della Vergine Maria, la mamma di tutte le mamme. Vorrei dire una cosa importantissima perché la nostra zona è la zona di San Vincenzo a Postiglione siamo in periferia di Torre del Greco. Allora questa festa è anche possiamo dire cittadina perché coinvolge un poco tutta la zona che tante volte ecco tra virgolette è dimenticata perché tante volte scelgono sempre il centro, il centro, il centro ma la periferia è ricca, è ricca di umanità. Noi veniamo ecco da un'esperienza bellissima come tutti gli anni facciamo l'oratorio estivo per i ragazzi e noi ospitiamo in quest'anno 120 bambini e più 30 animatori che mi aiutano per i giochi, per la catechesi, per le attività e questo è importante perché la periferia non offre più di tanto. I figli stanno qui con noi nelle attività, mangiano con noi, si divertono e vengono educati alla fede cristiana. Questo è importantissimo per noi parroci e per noi comunità di periferia e vorremmo lanciare un invito anche all'istituzione di Torre del Greco e non solo di aiutarci a noi di periferia a fare tante belle cose. Non dimenticate la periferia perché la periferia è il grande polmone che aiuta a respirare insieme tutto Torre del Greco. No